E ci spostiamo a Riva Ligure dove da ieri nei giardini di Piazza Ughetto c'è, la vedete in questa fotografia, una panchina in legno gigante, legno tra l'altro recuperato dalla costruzione della passerella sul rio Caravello. Questa mega panchina subito provata come vedete dal sindaco Giorgio Giuffra, è alta 3 metri, larga 4, pitturata di rosso, quale monito contro la violenza, ogni tipo di violenza nei confronti delle donne. E la speranza dell'amministrazione è che diventi un punto di riferimento per i turisti e sicuramente sarà molto fotografata.